A testimoniare quanto accadeva tra quelle mura, le telecamere installate dagli inquirenti dopo le prime denunce di un genitore. Campanello d'allarme, il cambiamento di umore del figlio di questo signore e i racconti di una ex dipendente dello stesso asilo che ha denunciato il comportamento scorretto delle colleghe. E così per tre maestre di un asilo nido di Rodengo Saiano sono scattate le manette per maltrattamenti aggravati. Nelle immagini riprese dalle telecamere si sentono le maestre che dicono parolacce e si vedono le stesse che spintonano i bambini. Secondo l'accusa avrebbero poi impartito punizioni ritenute eccessive come il mancato cambio del pannolino o la sottrazione del cibo ai bambini. L'indagine della Polizia di Stato era iniziata nel dicembre scorso e ha portato alla luce un comportamento violento delle arrestate nei confronti di bambini molto piccoli. Le tre insegnanti, due di 28 anni e una di 25, sono dipendenti dell'asilo. L'ordinanza di custodia cautelare che ha risposto l'obbligo di firma è stata consegnata loro lontano dall'ambiente scolastico. La posizione delle arrestate è supportata dalle immagini delle telecamere, sistemi di videosorveglianza che ora, grazie alla legge regionale approvata sei mesi fa dal Pirellone, potranno essere installati in nidi e RSA. Si tratta di un provvedimento promosso dalla Giunta su proposta del presidente Fontana e dell'assessore alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità Silvia Piani. La Lombardia è la prima regione a dotarsi di una legge in materia e sulla necessità di telecamere in ambienti deputati alla cura dei più deboli, parla il mondo politico lombardo. Maria Stella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, dice che l'episodio di Rodengo Saiano deve spazzare via ogni dubbio sull'utilità delle telecamere. Viviana Beccalossi, consigliere regionale del gruppo misto, precisa che la stragrande maggioranza delle persone che operano in questi contesti non ha nulla da temere perché sono seri professionisti del settore. Il presidente della regione Lombardia, Tilio Fontana, sottolinea quanto necessaria e opportuna sia stata la decisione della Lombardia di istituire una legge che nell'ambito delle competenze regionali permette di installare telecamere nei nidi a garanzia della sicurezza dei bambini.